E come avrete intuito questa interrogazione non si limita al dubbio retorico se Napolitano stia facendo o meno gli interessi del nostro paese, perché là fuori abbiamo italiani onesti rovinati da parte di scelte di politici lobbizzati che non ci rappresentano, abbiamo gente ridotta alla disperazione, gente che non ce la fa più e molti di loro stanno pensando di farla finita, però prima mi mandano a dirvi con cortesia, ci avete rotto il cazzo!